Egli disse loro, andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predico anche là. Per questo infatti io sono venuto. Gesù è venuto su questa terra per salvare tutti, non chi si e chi no. Però, tutti, anche i delinquenti, anzi, cerchiamo di pregare pure per questa gente perversa. C'è tanta gente che fa il male, che cregono i disordini, che cregono guerre. Non si capisce niente. Preghiamo per questa gente, che poi non è gente ignorante, è gente che tiene i soldi. Che comanda, che c'è il potere in mano. E che ragionassero per il bene di tutti. Siamo obbligati a pregare per chi si comporta male, non soltanto per chi si comporta bene. Direi principalmente per chi si comporta male. Se vogliamo un mondo migliore. E la prima forma di preghiera efficace è quella di Samuele. Parla, oh Signore, che il tuo servo ti ascolta. Dimmi cosa devo fare. Anche se mi costa il sacrificio, io lo farò. E avremo allora un mondo migliore. Grazie. 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 Grazie.